è importantissima una partita forse la più facile da svolgere per la squadra che vediamo in maglia bianco e rossa è l'Atletico di Madrid che aveva vinto per 2-0 a Belgrado l'incontro d'andata contro la Stella Rossa che va addirittura in vantaggio all'ottavo minuto con Marina c'è qualche protesta dei giocatori della Stella Rossa per la posizione non tanto di Marina quanto di Da Silva, l'altro attaccante hanno tentato un po' la tattica non lo so neanche perché c'è uno dietro ancora non è difficile, non è facile da stabilire comunque Marina è in posizione regola si, dopo fa un bel gole poi l'esterno a destra, fortissimo e all'ultimissimi minuti, al 32esimo c'è il pareggio che serve a ben poco anche un gol ben fatto si, come dicevamo prima forse conviene ogni tanto sbagliare i tiri perché diventano più efficaci questa volta il portiere corre in vano Mejas qua e là per la porta rivediamo l'unica vera azione della Stella Rossa e direi che il calcio jugoslavo esce un po' male da questa